Ciao a tutti, questi sono i miei indispensabili. Per quanto riguarda il classico da recuperare, io ho scelto di recuperare un classico contemporaneo, si tratta dell'Iguana di Anna Maria Ortese. Per le poesie, Carver, Orientarsi con le stelle. Per le serie io parto avvantaggiata perché colpevolmente non le guardavo fino a due giorni fa, invece ieri ho cominciato ed ho cominciato da Breaking Bad, suona la terza puntata, poi vi saprò dire. Per la musica io vi consiglio di buttarvi sull'intera opera dei Beatles, su quella altrettanto splendida di Mogolle Battisti, mentre il romanzo che rileggerò e aggiungo per l'ennesima volta è sicuramente per questi giorni complessi La Ciociara di Moravia.